Olivia D'Alfa in secondo, parte arretrato Olmo Laser, galoppa Ortefonte e il numero uno Oriana Blu assume decisamente l'iniziativa davanti ad Oceani OM e Domerta del Nord. Il galoppo di Oceani OM si rimette nelle posizioni di coda, nel frattempo Oriana Blu percorre i duecenti iniziali in 14.7, Oriana Blu, Omerta del Nord, in terza posizione Oxford Street, a precedere Olivia D'Alfa, poi Olmo Laser, Oceania, chiude Ortefonte. 29.8, il quarto iniziale, lunga fila indiana, tiene ottima andatura la leader Oriana Blu, percorre i seicento in 44.6, passaggio davanti alle tribune. Giro di pista completato in 59.5, addirittura montante di 90.000 euro su una corsa a 7 cavalli. È Natale e si vede, si cerca la fortuna. Chilometro in 1.14.9, Oxford Street marca Olivia D'Alfa, poi sposta e va su Omerta del Nord. Nel frattempo Oriana Blu cerca la fuga giusta. Tre quarti di miglio in 1.22.2, Oxford Street, sempre il più incisivo, attacca a fondo Oriana Blu, si avvicina Olivia D'Alfa, non progredisce Omerta del Nord. Retta d'arrivo. Sta passando Oxford Street, a centropista interviene Olivia D'Alfa, Olivia D'Alfa va su Oxford Street. Olivia D'Alfa, nei pressi del palo, prevale su Oxford Street ed Oriana Blu. Media probabile di 1.13.9, addirittura. Per Olivia D'Alfa ed Antonio Di Nardo, i colori della Stal Royal Horse, il training di Vincenzo Tufano, 5.77 euro la quota. Tenuta a metà gruppo fino ai 400 finali.